Matteo Merkel, protagonista del film La Prima Neve, è stato a Toronto per assistere alla presentazione del film all'Italian Contemporary Film Festival Junior per ragazzi. Italnews TV ha intervistato Matteo alla presentazione dell'Italian Contemporary Film Festival. La Prima Neve è un film girato da Andrea Scegre nella mia valle in Trentino e Teo Adige, che confina con l'Austria. e parla di un ragazzo che ha perso il padre in montagna in un incidente, cioè una frana, dove è morto e allora il figlio dà la colpa alla madre, che però non ne può niente. Nello stesso tempo arriva un ragazzo immigrato in Italia che ha perso la moglie durante il viaggio, che però aveva già una bambina e i dottori italiani gli hanno salvato la bambina. Lui non riesce a vivere con la bambina perché pensa sempre a sua moglie e viene a lavorare dal nonno di questo ragazzo. I due si conoscono e nasce un'amicizia dalla tristezza, possiamo dire. Per Matteo, considerato un piccolo genio, è stata un'esperienza indimenticabile. La mia esperienza è stata molto bella e anche divertente, per niente faticoso perché tra una scena e l'altra si poteva scherzare, poi c'era da mangiare, da bere, tante cose. Poi c'erano due amici, uno dei quali conoscevo, e è stato niente faticoso, tutto divertimento. Grazie. Grazie. Grazie.